oh mon dieu eravate qui non vi ho visti allora ragazzi oggi mi sono rilassata si vede dal mio look sto entrando in un sovraccarico ma ho imparato a capirlo prima e quindi forse mi sto salvando in tempo è sicuramente una cosa che è una capacità che diventa sempre più fine questa di capire quando mi sto sovraccaricando e di conseguenza capire ogni volta che cos'è che mi sta creando dei problemi è incredibile come alcune attività che faccio così proprio un po' così alla Carlona un po' con l'ignoranza quante tantissime attività, quante attività mi vadano a sovraccaricare a me sovraccaricano tantissime cose che faccio io, cioè per colpa mia ragazzi non per colpa dell'esterno tante cose è colpa dell'esterno ma tantissime cose ragazzi è colpa mia e di come mi comporto con le cose e di come mi relaziono con l'ambiente con la casa insomma con le cose della mia vita me ne accorgo perché puntualmente succedono quelle due o tre cose che mi vanno a sovraccaricare e inizio a avere sempre gli stessi sintomi identici identici ragazzi qua siamo tutti diversi a me per esempio inizio a sentirmi strana tipo come se non ho più voglia di parlare cioè come se sto entrando in blocco tutto ciò che sto facendo inizia a darmi fastidio quindi praticamente è come se lentamente mi devo accasciare e poi mi rendo conto che se continuo a pensare a quella cosa che sto facendo sto male quindi è proprio una questione di continuare a fare un'attività per troppo tempo in modo quasi un po' maniacale un po' ossessivo è come se la mente non sopporta questo peso e ti sta dicendo di fermarti quindi da parte mia è come se non c'è proprio non si è ancora completamente sviluppata ragazzi la capacità di fermarsi di fermarsi adesso in questo periodo vedo che ho fatto qualche miglioramento perché adesso sarei stata già male invece oggi ho capito in tempo e mi sono staccata prima perché due o tre segnali inizio ad averli già qualche ora prima inizio ad avere due o tre segnali sono quelle situazioni ragazzi che bisogna accorgersene in tempo nel senso sono delle sensazioni talmente fini che effettivamente tanti di noi non come ho fatto io fino ad oggi è come se le snobbi ste cose cioè te ne freghi poi però stai male il triplo tutto insieme e dicevo in questi sovraccarichi praticamente inizio ad accasciarmi poi inizia a venirmi male all'occhio quest'occhio qua nello specifico se vi può interessare e inizia tipo a chiudersi tantissimo quest'occhio rispetto a questo e inizia a farmi malissimo mi inizia a far male da dentro una sorta di risucchio da dentro a un certo punto mi accorgo di avere la vista sdoppiata e poi c'è una sorta di paralizzamento della faccia non completo c'è una sorta di è come se non la sento più tanto bene la faccia aiuto rido perché sono delle cose bruttissime però ragazzi è così purtroppo e e questo queste cose mi fanno capire sempre di più che visto che mi capitano puntualmente quando faccio certe cose niente ragazzi praticamente ci sono delle attività che io devo smettere di fare ci sono delle cose che mi danneggiano però per una cosa o per l'altra io continuo a fare queste cose devo ragionarmela un pochino perché insomma è importante capire da dove arrivano questi sovraccarichi io lo sto capendo adesso perché effettivamente mi capitano sempre quando faccio esattamente sempre le stesse cose ci sono delle attività nella vita che ci fanno male altre attività che sono neutre e altre attività che invece ci fanno stare bene il nostro scopo è quello di intracciare le attività che ci fanno bene e farle sempre di più e quello che ci fa male dobbiamo cercare un modo per allontanarcene perché c'è la nostra mente e il nostro corpo ci danno dei segnali ben chiari che non va bene non sono cose per noi e quindi bisogna trovare un modo per modificare queste attività ovviamente non è semplice perché sono delle attività che spesso c'è la necessità di fare magari sono dei lavori che non corrispondono proprio a livello etico con quello in cui crediamo ci sono diverse cose che creano una sorta di distorsione cognitiva pure nel mio caso e non va bene bisogna ingegnarsi e cercare un modo per allontanarsi e sostituire quell'attività con qualcosa di più sano è quello che farò io nei prossimi anni nei prossimi mesi spero un pochino prima dei prossimi anni sinceramente se tengo la mia vita e quindi insomma non sono per niente tematiche facili queste me ne rendo conto intanto ho fatto la torta di mele è venuta vediamo un po' sembra venuta bene sembra venuta bene